Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo questo nuovo episodio di American Track Simulator cosa facciamo oggi ragazzi terzo video di oggi del lunedì e praticamente devo andare a fare mi manca altri due video di American e poi parte la maratona di Aerotrack eh si ragazzi poi parte Aerotrack e aspettiamo domani per registrare gli altri due video questa serata si registra ok attacchiamo il semirimorchio e andiamo e andiamo a registrare e ragazzi spero perché non ne posso più di giocare ad American Track perché ragazzi perché dico questo perché semplicemente sto giocando ora tutto pomeriggio capisci e giocando tutto pomeriggio appunto mi causa cioè mi da fastidio insomma voglio andare un po' anche in Europa perché l'Europa perché Eurotrack sinceramente è più bello proprio perché ha più più staterelli e io mi prendo l'autostrada allora comunque comunque ragazzi questi video sono per la settimana prossima oggi ho il 23 domani registro ancora gli 8 poi dopo domani gli 8 gli 8 gli 8 gli 8 lo vedete nel computer devo avere devo avere tot video eh sì eh sto computer avrà da lavorare nelle notti andiamo un pochino tanto morca da me farei anche benzina farei controllo va bene dai comunque pesiamo 37 libbre perché ho solamente 6500 6500 libbre si uso le libbre come peso perché voglio essere più realistico possibile purtroppo di america non conosco mod purtroppo non riesco a installarle anche se in teoria sarebbe come eurotrack c'è la polizia ovviamente comunque comunque eh sì mi sembra di essere in GTA veramente perché praticamente a parte che siamo in un camion quindi non è un problema ma il problema più grosso comunque è terminato questo video registro eurotrack no faccio un altro video di questo e poi registro eurotrack e stanotte posso montarli poi domani registro gli 8 video monto quelli del lunedì capito e lascio fare e lascio e metto a fanno in altri video quelli del lunedì li edito praticamente mercoledì no li edito subito stasera mi devo mi devo anche sbrigare perché perché stasettimana è vero che è di registrazioni dicevi ne faccio 4 però 4 un po' pochino se voglio fare una settimana speciale ok perché voglio voglio utilizzare un po' di più il volante perché c'è sempre a marcire in casa anche se un po' lo uso perché si però ultimamente lo sto utilizzando veramente poco ho detto voglio utilizzare un po' il volante facciamo stasettimana speciale registra 8 video al giorno questo è il terzo comunque comunque no perché gli altri li ho fatti praticamente gli altri li ho fatti facciamelo passare allora questo praticamente i tre video questo è il terzo sto facendo i due video li ho fatti perché 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 si perché è giusto che li faccia te l'ho promesso ho detto faccia devo solo caricarli ovvio comunque so che devo uscire e va bene per tracchieri dobbiamo prendere per tracchieri tracchieri comunque 2 ore 52 dobbiamo andare a Oxnard nella Bunching Crops e trasportiamo una l'altra l'altra darmi con le mortioni pazzesco eh sinceramente non andiamo a rallentare perché sa che devo uscire no 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 fermi tutti si allora siccome sono un'autostrada bisogna fare attenzione bisogna fare attenzione a questa parte perché tracchieri non devo mettere l'efficiente vabbè ci arriviamo e poi ragazzi devo andare a mangiare sinceramente con già alle 7 e un quarto allora finiamo il video beh comunque finiamo il video finiamo il video e poi devo fare benzina al camion non andare a riposare che abbiamo 4 ore e si ci appacciamo quindi non dovremmo avere problemi e soprattutto il video deve americano io lo adoro c'è un gioco che è uno tra i miei giochi preferenti perché è vero che devi guidare però ti tiene moderata la velocità sapete anche se io la violo sempre però strano che non ho ancora visto polizia non ho ancora visto la polizia sinceramente comunque ma con un'ora e mezza cazzo ho spento il camion vabbè fa niente teniamo il freno il motore e mi sa che devo uscire dall'autostrada no non ancora non ancora mettiamoci sulla destra adesso non riuscire due corsie quindi non faccio problemi ma andiamo tranquilli ok dai comunque sono sulla interstate 101 e devo andare a Oxnard quanto manca dai questa autostrada sempre dritto poi siamo arrivati insomma chiudiamo il video dopo registro l'altro video questo lo metto a fare su Camtasia e poi siamo pronti per la la scanna lo sto coso non mi interessa prendere molte sinceramente perché noi guadagniamo cioè abbiamo preso 14.000 che diventano 4.000 ora che ci penso così in disborso questi e poi a fine a fine episodio devo fermare a fare benzina però non c'è il benzinaio porca miseria non restare dai allora sapete che faccio lo schippiamo lo schippiamo perché mi serve pensavo che c'era anche il benzinaio invece no con cerchio avanti mi sa uscire dall'autostrada siamo arrivati vabbè comunque siamo arrivati siamo arrivati a ottimo ottimo raga adesso dato che abbiamo terminato il video ci salutiamo perfetto raga cioè allora siccome devo non parcheggiare qua ragazzi e così si conclude questo video c'era Croce Sant'Andrea come avete visto ottimo siamo arrivati effettivamente non ho troppo vero non ho farci i parcheggi perché non ce ho voglia anzi giochiamo se sicuro facciamo il parcheggio però faccio quello semplice perché non ho in cui parcheggiare spento camion ragazzi e questo termina il video e soprattutto mettete un like mettete un commento soprattutto dopo faremo un altro farò l'ultimo video di Eurotrack del lunedì di American Track del lunedì intanto mi scelgo già la mi scelgo già la situazione perché affinatevi che non è non è del non è massimo a Oxnard andiamo a San Francisco bella destinazione allora magari sapete che faccio prima di chiudere il video volevo porca zozza mi ha volato il volante allora prima di chiudere il video volevo farmi questi due secondi volevo farmi questi due secondi di viaggio volevo farmi questi due secondi di viaggio per prendere il carico perché se no mi svanisce poi magari metto in pausa quando non che devo andare a mangiare ovvio eccoci qua la calma dove è il coso ah eccolo lì eccolo lì vai 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 invio mi prendo il carico e ci salutiamo allora facciamo inversione a U inversione a U penso di farlo per così dai 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 comunque col volante è già più semplice giocare da American che sto imparando un po' a come muovermi con il monante ok perfetto allora iniziamo la raglia e questo sarà il prossimo video a casa è tutto un bacio un abbraccio e ciao a tutti